Buon pomeriggio a tutti, bentrovati all'ultimo giorno di Librix 2021, terzo incontro di questo pomeriggio Maurizio Gonzaga, fiori nel deserto, Mannarino presenta Don Renato Baldussi, buon ascolto a tutti. Il professor Paolo Buonzio. Buonasera a tutti, benvenuti, spero sia una magnifica serata, adesso tra breve presenterò questo mio libro e spero che lo acquistiate e vi piaccia. Grazie infinite, lascio la parola ai miei interluttori. Anch'io auguro una buona serata a tutti, un ringraziamento a voi che avete aderito a questo invito perché vale la pena partecipare dove andrete comunque stasera. Anzitutto presento me stesso perché direte chi è questo qua, qualcuno mi conosce ma non tutti, io sono Don Renato Baldussi, sono parroco della parrocchia di Cristo Re qui in città Borgo Trento per intenderci. È stato fidato il compito di essere moderatore di questa serata nel presentare innanzitutto l'autore e poi il professor Paolo Buonzio che sarà lui che terrà poi la vera conversazione. Ad ogni modo presento subito l'autore perché siamo già un po' in ritardo, Maurizio Gonzaga nasce a Roma il 4 del 9 del 1938 ma è arzillo e ha una camminata veramente invidiabile. Il cognome stesso vi richiama Gonzaga, è un cognome nobile e infatti discende dalla famiglia montovana dei Gonzaga. Il padre, il generale Ferrante Vincenzo Gonzaga, eroicamente caduto nei pressi di Salerno l'8 settembre del 1943 per non aver aderito all'armistizio firmato dal maresciallo Pietro Badoglio. È laureato in giurisprudenza presso la facoltà della Sapienza a Roma, inizia la sua attività lavorativa presso aziende private e parastatali tra cui i Leni, dove rimane per 25 anni. Lavora nel frattempo nel campo del volontariato a favore dei minori disadattati negli istituti di custodia preventiva di rieducazione. Entra poi nel sovrano ordine di Malta operando nei consultori familiari. Se c'è qualcosa che non va bene, mi corregga. Poi approfondirà qualcosa lui. Poi come presidente dell'Associazione Famiglia Aperta di Verona si occupa dei minori a rischio operando nelle baraccopoli argentine in una favela nei dintorni di Rio de Janeiro. Tra l'altro un paio di racconti del libro sono ambientati in queste località. Attualmente risiede a Roma ed opera volontariato in ambito cattolico e si dedica a conferenze e studi storici in particolare nell'ambito della famiglia, nell'ambito familiare. Presento poi Paolo Bonzio che fa parte della nostra parrocchia, della parrocchia di Cristo Re in Brescia. Nasce il 27 aprile del 49, viene ordinato diacono permanente il 6 dicembre del 2008. È laureato in filosofia e pedagogia, è stato insegnante e dirigente scolastico in diversi comprensori. Attualmente è presidente del circolo Acli di Cristo Re in Brescia e si occupa di attività culturali, assistenziali e pastorali legate al circolo e alla parrocchia. Ebbene io cedo subito la parola a Paolo Bonzio che ci presenterà il libro. Adesso lui è un esperto di queste cose per cui sicuramente sarà molto apprezzato il suo intervento. Grazie. Grazie. Cercherò di esprimere quello che è la mia lettura di questo libro, soprattutto di quelli che ritengo i concetti fondamentali a cui penso si ispiri l'autore e mi dirà poi se la mia lettura è corretta o meno. Allora San Paolo, nella lettera ai Romani, parlando di Abramo, del padre Abramo, il padre delle tre religioni monoteistiche, ebraismo, cristianesimo e islamismo, afferma che credette sperando contro ogni speranza. E questa è la caratteristica della fede e della speranza cristiana. Una speranza che va al di là di ogni speranza e che la ragione umana riconosce appunto impossibile. È Abramo in questo caso che sacrifica Isacco e lo ha di nuovo. Ma è la stessa dinamica della croce di Cristo perché dalla croce nasce la vita. E fondamentalmente l'autore vuole testimoniare questo. Il tema dell'opera, proprio andare all'essenza stessa dell'opera, è la testimonianza di questa speranza contro ogni speranza. Indicata bene dal titolo Fiori nel deserto, dove il deserto, che afferma essere di riferimento è quello del Cile settentrionale, un deserto estremamente arido, ma quelle rare volte che piove, improvvisamente nascono infiniti fiori che poi ricadono nel nulla quando appunto il sole prende il sopravvento. Ebbene, questo deserto è il deserto delle relazioni umane, un deserto che viviamo quotidianamente in un mondo appunto che ha fatto degli idoli la propria divinità, l'idolo soprattutto del denaro, ma a cui seguono strettamente legati l'idolo del potere e l'idolo del piacere. Questi tre idoli, che sono dominanti nella nostra società, sono appunto coloro che generano il deserto delle relazioni umane. Ebbene anche in questo deserto delle relazioni umane, i giornali ne sono prova, li potete trovare in ogni momento le prove di quello che sto dicendo, ebbene anche in questo deserto delle relazioni umane, il cristiano crede che possa nascere il fiore della speranza. I fiori del deserto sono la testimonianza di questa speranza che vive, che genera vita anche appunto nel deserto esistenziale in cui viviamo. Il tutto raccontato attraverso delle storie, dei racconti, dodici racconti in tutto, ambientati in vari luoghi del mondo, ambientati anche in classi sociali molto diverse, e dicevo che in un momento particolare della vita umana, quella del preadolescente, dell'adolescente, ragazzini dai dodici ai sedici anni, diciassette, che vivendo appunto in questo deserto esistenziale attraverso degli incontri che generano in loro fiducia, cambiano la loro vita e cambiano anche la vita degli adulti con cui sono in relazione. Ecco appunto i fiori di speranza che nascono in questo deserto esistenziale. Completo l'introduzione, introduzione nel senso che non voglio entrare, magari entreremo dopo nei singoli racconti, con un accenno allo stile, uno stile abbastanza sorprendente perché non è usuale trovare un italiano fluido, corretto, molto preciso negli aggettivi, nei verbi, nei tempi e nei modi dei verbi, uno stile che racconta con grande chiarezza, semplicità, ma anche con grande profondità, l'immaturare di certe situazioni umane e come queste si risolvono appunto attraverso gli incontri che sono vissuti. A questo stile appartiene anche una modalità tutta particolare di raccontare nel racconto, attraverso il racconto, anche certe situazioni, diciamo, di tipo culturale che potrebbero, che senza queste spiegazioni dentro il racconto, non a parte, non come nota a margine, renderebbero complesso la comprensione del racconto stesso perché, ripeto, i brani sono ambientati in varie parti del mondo e ne racconto qualcuno di queste sottolineature di carattere culturale, soprattutto a carattere diciamo di conoscenza della storia delle religioni, che mi hanno molto compito e che, ripeto, rendono chiara la struttura e le motivazioni dei racconti stessi. Il primo è ambientato nel Nepal, racconta della dea Kumari, che è una tradizione evidentemente di quel luogo, appartiene alla religione induista ed è una tradizione per me almeno sconosciuta prima e del tutto lontana dalla nostra, dal nostro tipo di mondo, perché parla di una dea bambina, cioè viene scelta una bambina di otto anni e che viene portata via dalla famiglia, le famiglie che possono, diciamo, dare questa bambina che poi viene venerata come dea, sono famiglie nobili appunto del Nepal e questa bambina diventa una sorta di divinità, ovviamente nascosta alla gente, ma che la gente l'attende, l'adora, l'aspetta, la venera e poi questa bambina quando cresce perde il suo ruolo di dea e torna donna, con tutte le conseguenze drammatiche che questo comporta. Ripeto, una tradizione lontanissima, ma che non si capirebbe questo racconto senza questa spiegazione del perché un ragazzo di undici anni conosciuto, penso, dall'autore, che ha dietro di sé uno stuolo di bambini che l'adorano, quasi insomma, e lui spiega che ha visto la dea Kumari, no? Che l'autore che in prima persona racconta il racconto gli dice che è un imbroglione perché la dea Kumari non si può vedere, sfugge agli occhi, non viene vista perché viene nascosta evidentemente e però questo protagonista gli fa vedere al ragazzo la fotografia che viene data, diciamo, dagli organismi religiosi stessi, no? Per far vedere questa bambina bellissima, tra l'altro, con i costumi tradizionali del Nepal e allora questo bambino, questo ragazzo di undici anni, rivela, insomma, attraverso un dialogo anche difficile, anche a volte di scontro, però rivela i suoi interessi che sono due, dice, o due sogni. Uno, vedere davvero la dea Kumari, la bambina che in persona nella loro mentalità, nella loro religione, questa divinità che poi è la moglie di Shiva, uno della trinità, diciamo, della religione hindù e l'altro è quello di avere un vocabolario nepalese-inglese, perché senza vocabolario dice, non si può studiare l'inglese e la famiglia non può permettersi di comperarlo e l'autore del racconto gli regala questo vocabolario, da questo incontro nasce il fiore che questo ragazzino figlio di una famiglia di agricoltori, di pastori del Nepal diventerà col tempo un professore e un ingegnere informatico-telematico. Quindi, diciamo, è un cambio di questo incontro che in qualche modo ha generato il salto di qualità e l'emancipazione di questo ragazzo incontrato in un viaggio turistico a Kathmandu e nelle regioni circostanti. e questo, ripeto, è uno. Il secondo, un'altra annotazione che, insomma, ho studiato filosofia ma anche teologia e quindi mi ha molto colpito, la sottolineatura di un signore, di un papà etiope che viene in Italia attraverso i viaggi della speranza, che poi sono viaggi nell'inferno attraverso il deserto libico e così via, e che attraverso, così, l'integrazione anche in un paese dell'Emilia, attraverso anche e soprattutto l'integrazione dei figli, viene chiamato a portare la sua esperienza. Lui che è stato professore di storia, diciamo, della storia etiope, ma che è anche un cristiano copto convinto, e in un dialogo col parroco abbastanza, diciamo, per sottintesi, ma cita che i copti sono monofisiti. Io sfido chiunque a... insomma, i monofisiti è un'eresia, i cattolici la chiamano eresia, anche se i tempi sono un po' cambiati dopo il Concilio Vaticano II. Monos physis, una sola natura, i copti ritengono che Cristo abbia una sola natura, e questo nasce da Calcedonia, Concilio di Calcedonia 451, che afferma invece la doppia natura umana e divina di Cristo per i cattolici. I monofisiti scelgono questa definizione, e siccome la chiesa di Alessandria di allora, del 451, decide di essere fedele a questa linea, no? I copti d'Etiopia, che dipendono dall'Egitto, ecco che portano avanti questa religione. E anche questa è un'annotazione molto precisa per far capire, diciamo, la comprensione reciproca di un mondo che altrimenti, senza queste annotazioni, non verrebbe colto. Il racconto poi si snoda con altri sviluppi, ma mi interessava sottolineare questa. E la terza, quella forse più dura, anche se carica di speranza, forse questa è la più irreale di tutte, la più irreale di tutte, è un bambino, stiamo parlando, siamo nel Congo, nel Congo sul confine del Sudan, un bambino di tre anni abbandonato, così è una missione, abbandonato da gente in fuga, sapete che nel Sudan c'è tiraria di guerra da non so quanto tempo, no? E continua anche adesso, Sudan, Sud Sudan, Etiopia e così via, e Congo. Ebbene, questo bambino che cresce a 11 anni e vuole diventare anche lui una sorta di medico, comunque di partecipare all'attività della missione, soprattutto nel campo dell'aiuto medico, no? E che a un certo punto viene rapito da una banda di islamici, no? Mutite sul giornale, le si sentono spesso, tragicamente, non volentieri, ma si sentono. E questo bambino ritorna vent'anni dopo, ragazzo di 11 anni, torna vent'anni dopo in questa missione, ma come capo dei guerriglieri, dei guerriglieri a cui ha aderito pienamente, i guerriglieri del fronte insomma, del fronte islamico, dello stato islamico, cose di questo genere, e c'è un dialogo in questo ragazzo, tra l'altro, si ricorda del suo passato e nella missione, e questo di quell'aspetto forse che è una speranza davvero al di là di ogni speranza, perché salverà poi la missione, perché lui è il capo e riesce a impedire di realizzare l'ordine che ha avuto di distruggere la missione. Ma l'aspetto particolare e singolare di questo racconto è il dialogo tra lui, capo islamico riconosciuto molto giovane, ma capo islamico, e il missionario che l'ha avuto da bambino e che l'ha cresciuto sulla diversità tra l'islam e il cattolicesimo. È uno dialogo molto forte tra i due, perché appunto l'islam rivendica l'impossibilità di un dio che si fa uomo e soprattutto rivendica un dio potente che combatte, mentre ai suoi occhi il dio dei cristiani è un dio che rinuncia alla lotta e da sotto questo punto di vista è uno sconfitto, ma che non ha futuro secondo lui, e dall'altra parte la risposta dei missionari che rivendicano che questo dio che è morto in croce è quello che ha permesso a questo bambino di essere salvato da una condizione di morte, perché l'alternativa era quella, e così come tante persone sono state proprio salvate attraverso la scelta di persone che hanno fatto della non violenza e della solidarietà la loro ragione di vita. È uno scontro ben chiaro, molto aperto, ma nel rispetto reciproco. Tanto è vero che questo ragazzo non distruggerà la missione, si limiterà a razziare qualcosa per far vedere ai suoi capi che ha fatto quello che gli avevano chiesto, ma che in realtà salva appunto la missione. Esatto. E resta comunque islamico, no? E questo, dicevo, è forse il fiore più difficile perché finora adesso di islamici fanatici che realizzano dei progetti di pace purtroppo non ne ho mai conosciuti, ma la provvidenza di Dio è infinita. Ecco, ho voluto sottolineare questi aspetti che ritengo così caratteristici di questo libro e dell'autore insomma. Tra l'altro lo stile dell'autore, ripeto, è molto chiaro, preciso, ma anche molto profondo, ripeto, con l'uso di aggettivi, sostantivi, verbi, al punto giusto di un italiano fluente e insolito, secondo me, nei libri di adesso, si trova raramente, anche se per carità ogni autore ha un suo stile, ha le sue motivazioni, non voglio entrare in questo, sto sottolineando lo stile dell'autore, che secondo me esprime da una parte l'animo dell'autore, la forma e sostanza, qui si può discutere all'infinito, però evidentemente come uno si presenta in qualche modo c'è dentro anche la sua essenza, la sua identità. E dall'altra parte il rispetto del lettore, il dare al lettore le chiavi, se vuole evidentemente, ma le chiavi per entrare nella profondità del racconto e per capirlo fino in fondo. Ecco, io avrei finito questo primo giro eventualmente, poi se volete potremo entrare nell'ambito di qualche racconto, ma do la parola a Don Berenato. Bene, bravo Paolo, grazie per questa presentazione, molto bella, mi sono stato sottolineato alcuni aspetti reali, veramente, quindi io vorrei però a questo punto cedere alla parola, anche siccome il tempo che abbiamo è molto limitato, sentiamo anche cosa ha da dirci Maurizio, perché giustamente, altrimenti parliamo in due magari e Maurizio magari alla fine fa un piccolo cenno di... io direi, cediamo la parola a Maurizio, se vuoi dire due parole, Maurizio. Innanzitutto vorrei ringraziare il professor Bonzio che mi ha fatto una relazione molto particolarizzata su un paio dei dodici racconti di cui è composto il libro. E ovviamente ringrazio l'amico sacerdote parroco della Chiesa di Cristo Re per la sua esposizione precedente e per quello che dirà in seguito, perché senz'altro nell'intervista lui continuerà. Io sono agganciato alla Chiesa di Cristo Re qui a Brescia perché appartengo alla Chiesa di Cristo Re a Roma, quindi abbiamo un filo comune che ci unisce, almeno dal punto di vista religioso. Dunque, per entrare un pochino più nel dettaglio del libro, adesso probabilmente il... non so se tu mi chiederai, immagino perché l'abbia scritto, che cosa abbia voluto fare, che cosa... ecco. Non so se forse è bene che mi faccia tu prima un'esposizione e mi fai poi le domande e io rispondo perché altrimenti non volevo... appunto... ecco, magari fai prima tu le domande che io... ecco allora, prima vorrei sottolineare un aspetto, quando parliamo di deserto, contendiamoci bene, qui l'abbiamo... l'abbiamo parlato in termini diciamo positivi o negativi, io vorrei sottolineare che il deserto ha due accezioni fondamentalmente, un'accezione positiva che è quella che troviamo nella Bibbia, il deserto come luogo di riflessione, come luogo di ascolto, perché i grandi padri della Bibbia, pensiamo a Mosè, pensiamo a Gesù stesso che prima di iniziare la sua missione pubblica è stato 40 giorni nel deserto tentato dal demonio, è andato nel deserto per riflettere, Giovanni Battista predicava nel deserto, quindi i grandi padri della Bibbia hanno sostato nel deserto prima di iniziare una missione, Mosè prima di andare dal Faraone è stato nel deserto dove Dio ha parlato, quel deserto come luogo di incontro con Dio è come luogo di riflessione, di introspezione e di preparazione anche ad una missione, invece c'è un deserto negativo che significa che è dato dal fatto che ci si vuole isolare, che non si vede attorno a sé nessun altro se non se stesso, deserto come egoismo, come chiusura, come incapacità di saper vedere intorno a noi la sofferenza, saper vedere intorno a noi le altre persone, quindi ci chiudiamo in noi stessi, non vogliamo, facciamo finta di non vedere quello che succede intorno a noi, ecco bene, il deserto in questo caso, come è stato sottolineato prima, in una sezione positiva dove appunto il deserto indica anche la capacità di dare qualcosa, cioè nel deserto non è che non ci sia vita, nel deserto c'è la vita, è impossibile sfuggire alla vita, anche se noi ci chiudiamo comunque la vita prima o poi ci interpella, non possiamo continuamente rimanere chiusi noi stessi, quindi dobbiamo aprire prima o poi gli occhi come è capitato anche in personaggi del libro stesso, genitori che si sono trovati ad aprire gli occhi grazie ai ragazzi, ai loro figli, grazie agli amici dei loro figli, cioè prima non vedevano la realtà, chi ha fatto aprire loro gli occhi sono stati i loro figli, i loro ragazzini, i loro ragazzi, per esempio nel racconto di Daniel mi pare, questo ragazzino il quale si sentiva continuamente solo perché i genitori erano interessati a tutt'altro, al lavoro, erano interessati a vivere la loro vita quotidiana nella frenesia di ogni giorno, questo bambino si sentiva lasciato a se stesso e a un certo punto compie un gesto, direi un gesto, capita un incidente, anche il bambino geloso dalla sorellina perché era continuamente vezzeggiata dai genitori, nasce questa gelosia, questa chiusura, questo bambino viene portato anche dallo psicologo, ma i genitori non collaborano con lo psicologo, alla fine i genitori aprono gli occhi quando? Quando succede che questo ragazzino in preda a un esibizionismo per farsi notare dagli amici, prende in mano una moto e si va a schiantare contro un albero, contro un muro, quindi poi i genitori allora ecco che cominciano a riflettere, cominciano a pensare, cominciano a farsi anche dei sensi di colpa, soprattutto la mamma, quindi prima ci si chiude nei propri affari, nelle proprie cose, capita poi una disgrazia, capita un incidente, capita e si aprono gli occhi quando ormai però purtroppo è troppo tardi, quindi questi ragazzi nei racconti fanno aprire gli occhi agli adulti, cioè gli adulti hanno un mondo diverso, un mondo diverso di vedere la realtà, anche per quanto riguarda il fatto del rapporto interculturale, anche nel racconto di Samuele, quel brano quando questo bambino viene portato dal padre che era un po' un integralista ebreo, viene portato a Petra, la città dei Nabatei in Giordania e questo bambino incontra altri bambini ma di una cultura diversa che è la cultura islamica, bambini che vivono nelle tende con i beduini, questo bambino viene invitato da questi beduini, da questi bambini e lì c'è una sorta di dialogo molto bello, molto interessante. I genitori, il padre in modo particolare si arrabbia col bambino perché dice tu non devi fare una cosa del genere, non devi andare con queste persone, è quello che capita anche oggi nella nostra realtà, i bambini si integrano molto meglio rispetto agli adulti, gli adulti vivono in un mondo diverso, sono più legati alle loro tradizioni, al loro modo di pensare, i bambini sono più tra virgolette smaliziati, ecco diciamo noi, noi siamo più maliziosi e a volte questi bambini si trovano ad essere rinchiusi in se stessi proprio perché i genitori li rimproverono, non possono aprirsi al diverso, cioè allora io vedo anche per esempio nell'esperienza, io ero parroco a Borgo San Giacomo, avevamo là parecchie famiglie indiane, 700 indiani, i bambini avrebbero voluto, ma questo me lo diceva un bambino che veniva a seguire alla messa perfino un bambino indiano, questo bambino mi diceva che i genitori li proibivano di parlare con gli altri ragazzi, anche a scuola anche gli insegnanti mi dicevano quando c'era la ricreazione, questi bambini avrebbero voluto stare con gli amici italiani, ma purtroppo rimanevano rinchiusi tra di loro nella preoccupazione che qualche bambino andasse a dire ai genitori che loro parlavano o giocavano con gli amici italiani, quindi sono i genitori, sono gli adulti che rinchiudono i bambini nella impossibilità di poter dialogare, di poter aprirsi nei confronti degli altri, nei confronti dei loro coetanei, quindi a parlare di integrazione, è proprio vero quello che diceva Gesù nel Vangelo, se non diventerete piccoli non entrerete nel Regno dei Cieli, cioè se noi non diventiamo come bambini, con la mentalità del bambino che si aspetta tutto da tutti, che è indifeso, che non ha malizia, non possiamo entrare nel Regno dei Cieli, cioè rimarremo sempre chiusi nel nostro io, nel nostro egoismo e non ci sentiremo salvati, ecco tra virgolette, per cui questo racconto mi pare molto significativo per esprimere anche la condizione in cui ci troviamo oggi noi, anche con queste persone, con questi immigrati che le vecchie generazioni, i genitori, i nonni, rimangono chiusi nella loro religiosità, nel loro modo di pensare e non permettono a questi ragazzini invece, che magari nascono in Italia, perché nascono in Italia, di potersi integrare con i loro coetanei italiani. Certo, certo. Io passerei magari, se non vi dispiace, alla lettura anche di un brano per poter far capire anche il stile dell'autore di scrivere, magari a questo proposito, a proposito invito magari Giuseppe a venire a fare questo straccio di lettura. Ecco, leggiamo quello che aveva citato prima il professor Paolo Bonzio, quello del racconto della Croce Astile, dove la sorellina, una delle figlie di Antonio, che era il padre che aveva portato la famiglia in Italia, dove questa bambina nei confronti degli altri ragazzi con le amiche fa un discorso molto bello, molto significativo per vedere la differenza che c'è un po' tra la nostra cultura e quello che abbiamo perso noi nella nostra cultura e quello che invece loro avevano a cuore. Amanda, conversando un giorno con le sue amiche, aveva illustrato, secondo la sua percezione, la vita che conducevano al loro paese, l'estrema povertà di tanti suoi connazionali, l'agricoltura ancora primitiva e la diffusa pastorizia, la grande carenza d'acqua dovuta a lunghi periodi di siccità, ed invidiava quell'angolo d'Italia nel quale ora dimorava, dove numerosi canali irrigavano la fertile pianura e moderni trattori tracciavano solchi ordinati e precisi. «Da voi il progresso è evidente», commentava Amanda, «non vi manca nulla, ma...» e dopo una studiata pausa di riflessione continuò. «Qualcosa forse l'avete perso, il senso della comunità. Ho notato che qui avete tutti fretta, vi manca il tempo di riflettere, di riportarvi a quei valori di solidarietà e di reciproco aiuto che in passato costituivano il fulcro della vostra società. Almeno così sostiene mio padre, che l'ha sentito raccontare dal suo, parlando del periodo in cui avevano i nonni. Certamente da noi esistono odi tribali, guerre continue di potere che affliggono l'esistenza nostra e delle nazioni confinanti, ma le tradizioni ancora vive e la fede sostengono il difficile cammino di ogni giorno nel solco dell'insegnamento ricevuto dagli avi, che gelosamente custodiamo per tramandarlo a quanti verranno dopo di noi». Grazie, grazie. Ecco c'è un altro racconto che mi ha colpito, non vorrei però dilungarmi troppo perché dopo sentiamo un po' anche le domande da parte del pubblico, da parte delle persone, che adesso si fate un'idea appunto del libro. C'è un altro racconto molto bello, un dramma Portegno, che racconta anche qui appunto, l'ho già detto prima, di questo ragazzo, di questo Daniel che va a schiantarsi. Portegno significa della città di Buenos Aires in Argentina. Ecco sì, anche qui vorrei leggere un brano, anche qui è molto significativo, del rimprovero che la ragazzina, la sorellina di Daniel che si va appunto a schiantare con la moto, da un discorso ai genitori, quasi li rimprovera e la mamma cerca di giustificarsi. Ecco qui abbiamo di fronte due mentalità, ecco la figlia che cerca di, non dico colpevolizzare, però che fa sì che il genitore, che la mamma e il papà riflettano sul perché Daniel ha compiuto questo gesto, è arrivato a questo punto, non si sa se sia stato un incidente o sia stata voluta la cosa, però è successo. Quindi non per far venire un senso di colpa ma per far notare ai genitori che quel che è successo è comunque anche frutto della loro responsabilità, della loro non curanza. Quindi vediamo da una parte la bambina che obbliga i genitori ad una riflessione. Prima non avevano mai capito il bambino, non l'avevano mai preso in considerazione perché presi, come si diceva prima anche nel rapporto che faceva appunto Amanta, quando diceva che voi siete pensati solo alla fretta, al fare, ecco questa mentalità nostra, il continuare a fare, il pensare al fare o agli affari o al lavoro e non curarsi forse magari dei problemi più importanti che sono quelli legati alla famiglia, come quello dell'ascolto. Ecco per essere bravi educatori e non si tratta soltanto di dare il cibo o di dare le cose necessarie e materiali ai ragazzi, ma occorre sapere avere anche una buona dose di ascolto, sapere ascoltare in modo particolare perché poi questi errori si pagano alla fine. Ecco vorrei sentire appunto le ragioni della mamma che cerca di giustificarsi di fronte a Gloria che è la sorellina di Daniel che appunto si era schiantato con la moto e la risposta che poi dà la mamma cercando di dar colpa in gran parte al padre perché anche nelle situazioni in cui vivono oggi le famiglie, soprattutto quando ci sono casi di separazioni, si cerca di dar colpa quando si dice qualcosa di fronte ai figli di dar colpa al partner, all'altro partner o si cerca invece di ringraziarsi i figli accontentandoli magari più dell'altro, ecco la mamma è più buona, la mamma è più brava oppure il papà perché mi dà, quindi i bambini, i ragazzi a volte ci razionano dentro no? Ecco per cui leggiamo adesso questo brano, magari scusa Giuseppe ti richiamo ancora, dove sentiamo le ragioni della madre oppure le scuse della madre e sentiamo invece quello che rimbrotta la figlia Gloria, quello che richiama la figlia Gloria alla madre del perché è successo è stato un fatale incidente Gloria, non è colpa di nessuno, una terribile digrazia le faceva ecco il padre, un destino crudele che ha voluto infierire su di noi e colpirci nell'affetto più caro, non ha avuto il coraggio di chiederci una moto in regalo perché sapeva che l'avremmo negata, così ha preferito farsela prestare da un amico, una tragedia. La fanciulla smise di piangere e guardò in faccia i genitori, poi con quanta voce aveva in gola urlò davanti a tutti i convenuti, assassini, assassini, voi l'avete ucciso, poi dopo qualche minuto abbassando il tono aggiunse fra le lacrime, pensate di tacitare la vostra coscienza sostenendo che si sia trattato di una disgrazia, no non è vero, sapete benissimo che state mentendo a voi stessi. Più volte mi avete confidato, e non da ora, che desiderava farla finita con questa vita inutile, fatta solo di dimieghi e di imposizioni. Nessuno di voi, due, ha mai cercato di comprendere il suo disagio, il suo disperato bisogno di affetto, la necessità di un dialogo aperto e sincero. Lo avete abbandonato per l'intera sua esistenza, reputando i vostri impegni di maggiore importanza rispetto alla difficoltà di misurarvi con i suoi problemi. Ora che tutto si è inconcluso, versate lacrime di coccodrillo. Non sento rimorsi per quanto è accaduto, l'ho sempre stimolata a compiere il proprio dovere nel rispetto del prossimo e delle istituzioni, rispose la madre, asciugandosi con un fazzoletto, gli occhi arrossati da recente pianto. A me pure, ripese la ragazza, ha insegnato il dovere, il rispetto, l'onestà, ma dovere il cuore quando ti rivolgevi a Daniel. Pensavi forse di trattare con un pezzo di legno? Vieni Gloria, aggiunse prendendola per mano. Usciamo di qua. Desidero parlarti senza tutta questa gente attorno e senza il papà. Uscirono dalla camera mortuaria e si incamminarono verso un giardino ai lati di un ruscello. Si sedettero su una panchina e la dottoressa Silvana, fissando intensamente la figlia, con voce commossa, iniziò il suo ragionamento. Ormai Gloria, non sei più una bambina, hai compiuto dodici anni e sono certo che mi comprenderai. Può darsi abbia sbagliato qualcosa nell'educazione di Daniel, ma intendevo fare di lui un uomo senza facili sentimentalismi e soverchi illusioni. Lo amavo, credimi. Forse non sono stata capace di dimostrarglielo, ma mi è mancato l'aiuto di tuo padre. Lui è stata una figura sostanzialmente assente nella vostra educazione e la vita in comune si è rivelata disastrosa. Antepone il lavoro, il guadagno, forse anche l'amicizia e le donne, alla sua famiglia. Non ha mai trovato il tempo di sedersi in salotto e discutere in maniera costruttiva dei problemi che ci angustiano. Dopo tanti anni trascorsi nella incomunicabilità, ho deciso di chiedere la separazione. Sono convinta che il giudice me la concederà e con essa anche il tuo affidamento. Penserò a crescerti ed educarti, o rettando le tue scelte nella direzione di un retto discernimento, senza interferenze che possono stracalare il tuo cammino verso una graduale autonomia. Mamma, non crede di poter disporre di me come una tua proprietà esclusiva. Non è bastato a te e a papà aver decretato per il vostro egoismo e torna conto, se preferite, la morte di Daniel. La dottoressa Silvana mutò lì davanti al fermo in atteso atteggiamento di gloria. La riteneva una sua alleata per una sua sorta di solidarietà femminile. Ora invece si accorgeva che sua figlia era cresciuta e ragionava con la sua testa. Restò in silenzio per almeno dieci minuti. Il capo fu alle mani passando in rassegna i lunghi anni trascorsi in una routine che non lasciava spazio ad un costruttivo dialogo fra genitori e figli. Ora una ragazzina di dodici anni la faceva riflettere sull'erronea impostazione di una vita orientata al lavoro e al guadagno, senza tenere nel debito conto la dignità e le esigenze dei figlioli che nel loro sviluppo mentale chiedono di far valere le proprie idee confrontandosi con gli adulti in maniera libera e costruttiva. Adesso passerei un po' anche alle vostre domande, non lo so perché giustamente anche voi vi siete fatte un'idea adesso del libro, anche se non l'avete ancora letto, non lo so qualcuno magari la forse ha letto, non lo so però. Avete un'idea di come è impostato il libro, gli argomenti trattati? Se volete fare qualche domanda all'autore, a Maurizio, potete farlo benissimo. Due cose volevo dire, innanzitutto che il libro nasce da esperienze, non sono racconti basati un po' su vuoto, su qualche cosa di impossibile. Sono tutti racconti che nascono da esperienze di vita che ho fatto con i minori. Nel corso di tanti anni io mi occupo di problemi minorili da una cinquantina d'anni, quindi una qualche idea ormai su come pensano i ragazzi e anche delle problematiche che hanno nei confronti dei genitori e nei confronti della società e ovviamente me li sono fatti. Io ho lavorato molti anni negli istituti di custodia preventiva e rieducazione minorile. In modo particolare negli istituti di rieducazione, adesso sono stati aboliti, comunque fino a ventina, trentina di anni fa esistevano questi istituti nel quale confluivano ragazzi di famiglie di astrate, in stato di semiabbandono, ragazzi molto poveri che non avevano la possibilità di continuare a vivere in una famiglia che o non li accettava o comunque non era in grado di educarli. Io ho avuto un'esperienza appunto con famiglie aperte di cui si accennava in precedenza, in quanto ho avuto un ragazzo di una baraccopoli romana, un ragazzo siciliano, in affidamento dal tribunale, quindi l'ho allevato in qualche modo e l'ho portato poi via via alla vita reale e a interessarsi delle problematiche familiari, ma naturalmente un ragazzo che ha avuto un passato difficile e che piano piano poi attraverso il ragionamento e attraverso la propria intelligenza e capacità, perché è ovvio se un ragazzo non ha cervello non si può fare nulla, ma operare con i piccoli boss è la cosa che dà maggiore soddisfazione perché vedi che a un certo punto se si ravvedono e seguono un certo cammino e convincono altri ragazzi a seguire la loro strada. Ecco questo volevo così dirvelo come premessa. Ecco un'altra cosa, la seconda, io appartengo a una famiglia, voi l'avete sentito, Gonzaga, qui siamo a Brescia e quindi Gonzaga li conoscete, almeno come famiglia e per quello che naturalmente hanno fatto a Mantua, ecco, e quindi io sono un privilegiato sotto molti punti di vista e come diceva Sant'Agostino, quindi io debbo in un qualche modo anche restituire una parte di ciò che il Signore mi ha dato. Ecco quindi il mio impegno al riscatto di tanti giovani nasce anche da questo sentimento che io provo nei riguardi dei ragazzi di aiuto disinteressato nei limite delle mie possibilità ovviamente. Questo si estende poi anche alle persone adulte, alle persone che si trova in ogni stato di necessità. Ma io ho sempre privilegiato il campo minorile perché è il campo nel quale io mi sono cimentato per tanti anni, operando oltretutto anche non soltanto in Italia ma nelle baraccopoli argentine e brasiliane. Quindi è un campo difficile, i ragazzi vivono in situazioni drammatiche, ecco, quindi questo mio impegno tutto sommato ha una ragione d'essere, nel tentativo di dare anche a questi ragazzi una prospettiva di vita diversa. Grazie, potete farmi qualche domanda. Francesco, vieni pure, sì. Buonasera. Ah, buonasera. Ascolti, io penso che questo libro possa essere presentato all'interno delle scuole, io sono un docente. grazie. Come possiamo in un certo qual modo spiegare ai ragazzi, in un momento così difficile, quello che abbiamo vissuto, le tematiche, perché alcune tematiche fanno emergere una certa sofferenza anche, come fare, quindi fare in modo che i ragazzi comprendano il senso anche della sofferenza, insomma, secondo lei ci può essere un modo, in un certo qualità, pedagogico. Guardi, i ragazzi, secondo me, la sofferenza la vivono dentro di loro, cioè non è che noi dobbiamo far capire loro cos'è la sofferenza, perché io mi rendo conto, mi sono reso conto attraverso tutti i contatti che ho avuto con i ragazzi un po' di tutto il mondo, ma in particolare con i ragazzi italiani e sudamericani, che la sofferenza loro l'avvertono anche se non la manifestano. Nel contatto che si ha con i ragazzi è abbastanza, specialmente con gli adolescenti, è abbastanza facile, almeno per me, individuare i ragazzi che soffrono, perché è il loro stesso comportamento, è il loro avvicinamento che hanno nei confronti delle persone che sentono, è una questione probabilmente di sentimento, di trasmissione anche un po' di pensiero, per cui i ragazzi si rendono conto se una persona è in grado di aiutarli o no, e si rendono conto che possono confidarsi anche con persone che hanno appena conosciuto, ma che avvertono a loro più vicine. Ecco, quindi c'è questo contatto, c'è questa possibilità, e io l'ho avvertita in tanti ragazzi con i quali sono venuti in contatto, italiani, ti dico, straniere, non ha importanza, principalmente i maschi, perché le femmine sono più restie a comunicare con un uomo, preferiscono una comunicazione diretta con le donne, ma con i ragazzi io non ho mai avuto difficoltà di contatto, probabilmente loro lo sentono, lo avvertono, qualche cosa, c'è un contatto proprio che avviene quasi naturalmente, capisci? Ecco, quindi non c'è tanto da far capire, c'è da recepire soprattutto e da trasmettere, quindi di venire incontro. Io ricordo che ho lavorato anche al Tribunale per i minorenni di Roma, ecco, il giudice mi affidava, in questo caso anche bambine, latinoamericane per le adozioni e siccome c'erano delle adozioni dubbie, vale a dire famiglie che adottavano non con lo scopo di avere un figlio ma soprattutto per un secondo fine che è quello di avere una persona, una domestica gratuitamente senza dover pagare contributi o stipendi, eccetera. E quindi parlando con queste bambine, con queste ragazzine che venivano, naturalmente giovanissime, 13-14 anni, me le tenevo lì, me le abbracciavo che parlavo in spagnolo e loro si confidavano perché capivano che era una persona con la quale loro potevano parlare, non rappresentava un'autorità, rappresentava una persona alla quale potevano trasmettere i loro sentimenti e io poi ovviamente stendevo una relazione nella quale appunto scrivevo che in quei casi l'adozione non era consigliabile. Sì, volevo chiedere, secondo l'esperienza vissuta per anni accanto a questi ragazzi giovani. Dal suo punto di vista, le parrocchie, la religione oggigiorno viene incontro ai tanti dubbi, alle problematiche dei giovani di oggi, dei ragazzi soprattutto adolescenti? Il linguaggio usato, diciamo, da chi dovrebbe aiutarli nelle parrocchie piuttosto che nelle scuole, è adeguato? Guarda, il linguaggio dipende ovviamente dai singoli parrocchi perché non tutti i parrocchi sono uguali e non tutti hanno la stessa sensibilità nei riguardi dei ragazzi, quindi non può essere una risposta univoca chiaramente. Certo, i parrocchi che vivono l'esperienza delle baraccopoli o che vivono l'esperienza di quartieri periferici piuttosto disastrati e hanno contatti continui con i minori hanno ovviamente questo contatto e hanno e sanno come parlare. Spesso invece i parrocchi che vivono in quartieri più agiati non hanno la sensibilità verso queste problematiche, quindi io non posso dare una risposta univoca che coinvolga tutti i parrocchi, ma sarebbe assurdo. Quindi ognuno ha la sua sensibilità e alcuni sono in grado e altri molto meno, per altri alle volte anche negativi, perché se non conoscono il problema e non l'hanno vissuto difficilmente lo possono insegnare o manifestare ad altri. Poi su questo penso che Don Benussi possa meglio rispondere alla domanda, perché come parroco lui è direttamente investito di questi casi. Adesso purtroppo i giovani si sono un po' allontanati dalle parrocchie, forse perché è stato impostato male anche il discorso degli oratori. Prima c'era solo l'oratorio, in un paese, qualche città, non c'erano tanti diversivi per i ragazzi. Sono rimasto meravigliato ieri, ieri sera, siamo stati qui a colloquio con Maurizio, io Paolo e Maurizio, e ho percorso, erano le 11 circa, quasi le 11, via Trieste con la macchina. Non si poteva passare dalle centinaia, centinaia di giovani che invadevano la strava, la movida e compagnia. Beh, c'era piazzale Arnado, era strapiena, una roba impressionante. Una volta tutti questi ragazzi, questi giovani venivano all'oratorio, venivano in parrocchia. Adesso i nuovi luoghi di incontro di questi ragazzi sono le movide, sono le piazze, è difficile adesso incontrare i ragazzi. Prima c'era più collaborazione anche da parte della famiglia, adesso anche i ragazzini oggi, dopo la terza media, ma anche prima, dopo la quinta elementare, se fanno la cresima in quinta elementare, dopo la quinta elementare non li vedi più, non vengono più neppure a messa. Quindi lì dipende molto dalla collaborazione anche con i genitori. Certo, quelli che vengono all'oratorio, che vengono a trovare, tra virgolette, il prete, che vengono dal paroco o dal curato, sono quelli che vengono a cercare qualcosa di più rispetto o di diverso rispetto agli altri ambienti, perché noi non possiamo competere con la movida, l'oratorio non è la movida, non possiamo noi fare quelle cose lì. Cioè, allora, sono dei giovani magari che vogliono riflettere, vogliono pensare a qualcosa di più approfondito e allora si aprono al dialogo. Però tante volte è che i ragazzi oggi non comunicano più con gli adulti, comunicano tra di loro e questo è veramente pericoloso, nel senso che non trovano negli adulti, come si diceva anche prima, la capacità di ascoltare. Questo poi diventa una cosa generale, pensano che tutti gli adulti siano così, incapaci di ascoltare, la famiglia non li ascolta, o poco. I preti, anche purtroppo qui adesso faccio un mea colpa, sono anch'essi oberati da mille cose, a livello anche burocratico, quasi il tempo per ascoltare quasi non l'abbiamo pure noi. Quindi anche noi troviamo difficoltà a essere ascoltati da qualcuno, perché noi dobbiamo ascoltare gli altri, ma ci vuole che anche qualcuno ascolti noi, perché tanti preti oggi purtroppo, diciamo la verità, sono anche loro in crisi di identità. E guardate che l'ultimo racconto, per esempio, il seminarista denota molto bene questo aspetto, questa realtà, non perché uno che è prete abbia risolto tutti i problemi della sua vita, ci sono anche parecchi preti purtroppo in crisi, in crisi di identità, in crisi con se stesse. Cioè allora non è facile. Quindi allora qui ci vuole naturalmente una collaborazione tra la parrocchia, la scuola e la famiglia. Per oggi c'è un tipo di educazione che, diciamo, una volta esisteva questo, la maestra insegnava ai bambini a pregare, si faceva catechesi anche nelle scuole, la famiglia insegnava a pregare, la parrocchia, c'era un contesto particolare di collaborazione anche se ci vuole. Adesso invece ognuno va per la sua strada. Alla parrocchia tocca l'educazione religiosa, alla scuola la cultura, alla famiglia pensare a procurare il necessario e basta. Cioè ci vuole più collaborazione. Quindi facciamo che a noi fatica e facciamo fatica a collaborare anche col mondo degli adulti, col mondo dei genitori che sono i primi che dovrebbero essere secondo me adesso catechizzati e aiutati. Perché sono più in crisi i genitori quasi rispetto ai ragazzi. Dopo certamente i ragazzi perché sono in crisi? Perché anche la famiglia è in crisi. Non dico la famiglia perché la famiglia è ancora un punto di riferimento per tutti. Forse è la coppia che è in crisi. e quindi i ragazzi naturalmente soffrono anche di questa realtà. L'abbiamo sentito anche nel brano che abbiamo ascoltato. Non si sentono ascoltati, non si sentono considerati e per cui si abituano così. E allora dove si trovano bene o meglio? Con i coetanei. però i coetanei non possono dare ciò che dà una persona matura insomma. Perché anche i coetanei vivono la stessa situazione. Questi ragazzi si chiudono in sé stessi, non parlano e quindi si abituano così e poi entrano in crisi. Quindi non è facile. Mi sto corrigendo anche io che il compito d'educatore è un compito difficile come anche quello del genitore. tutti gli educatori facciamo fatica oggi. Facciamo fatica. E più si va avanti non vedo delle prospettive più facili. Perché questi ragazzi saranno i genitori di domani. Se non sono abituati adesso ad essere ascoltati, ascoltamelo che ci siano dei sensi di colpa che poi magari cambiano un po' le cose ma non lo so fino a che punto. Io faccio difficoltà. Ci sono certo dei ragazzi, dei giovani che si impegnano, che vengono però la stragrande maggioranza non li si vede più. Dopo la quinta elementare che ha spostato, anticipato la crisi e la prima comunione quinta elementare non li vedi più. Neanche a messa vengono. Per cui e se non si vedono come facciamo ad essere un dialogo con loro? Non li vediamo più. Non è che ci rifiutino per l'amor di Dio però non hanno neppure i motivi, non si sentono motivati a venire o a confidarsi. Ci fanno segno che dobbiamo terminare però c'è un tempo per un'ultima domanda? non lo so. Sì dai facciamo. Grazie scusate. Buonasera. Due osservazioni con un tento anche di domanda. Io sono un insegnante da un po' di tempo alle superiori. Ascolti siccome all'inizio si è fatto riferimento alle religioni e alle tre grandi religioni no? Ecco particolari monofisite. Volevo sentire e sapere da lei se all'interno del suo libro erano presenti solo dei racconti, dico solo creativi di un'esperienza diversa in più parti del mondo? Oppure se c'era un riferimento magari indiretto all'influenza delle religioni e quindi del pensiero all'interno di questi episodi? Perché se non ho capito male gli episodi, i fatti reali sui quali lei ha sottolineato l'importanza, nascono dalla vita reale di altrettante condizioni umane che sono inserite in contesti socio-culturali, religiosi, storici che devono avere un'influenza sulla conduzione dell'esistenza. Punto. Seconda osservazione. È verissimo quello che lei ha sottolineato e purtroppo condivido molte delle osservazioni che lei ha fatto, ma alcune sono legate a un contesto più grande di noi che si chiama in generale e superficialmente globalizzazione. In un altro contesto invece rilevo ancora oggi proprio la battuta d'arresto, l'impasse delle famiglie, prima ancora della scuola o della società, perché poi la società è anche la scuola, la famiglia eccetera, quindi non è che la società sia un'altra cosa rispetto. Quindi la famiglia effettivamente il ruolo dei genitori è andato in crisi profondamente e su questo io penso che i figli che continuano a nascere anche se con una certa diminuzione rispetto a qualche decennio fa, risentono del modello di riferimento che non c'è più o di ruoli che sono pasticciati, molto pasticciati. La madre che fa il padre, il padre che fa la madre e tutti e due che non sanno fare reciprocamente quello che dovrebbero fare. e poi c'è anche, e chiudo, la difficoltà nei giovani di riconoscersi in questi modelli, ma anche perché non solo non parlano più con i genitori adulti, ma non parlano neanche con i coetanei. Quindi il parlare è una cosa, il confrontarsi è tutta un'altra cosa e loro non si confrontano proprio più. Allora, lei mi parlava delle religioni, nel confronto delle varie religioni, dei ragazzi di cui ho parlato. Io ho capito male, nel riferimento al tuo libro, quanto ancora la religione e quale di le tre religioni, secondo lei, può aver infinito o infinito ancora l'educazione dei ragazzi. Perché ho percepito, ma posso sbagliarli, una ipercritica nel confronto del mondo cattolico cristiano e una differenziazione nel confronto delle varie religioni. Sì, ho capito, dell'Islam. No, allora, no, non sono critico nei confronti della nostra religione, per carità io sono cattolico e anche osservante, praticante, quindi non è la critica verso la religione, lei lo vedrà, poi ci sarà nell'ultimo racconto, se prenderai il libro, parlo appunto del seminarista, ma tutti questi problemi sono trattati in maniera piuttosto leggera, piuttosto non carico, perché c'è sempre la possibilità di riscatto. E non è che io a questo punto immagino o pensi che l'Islam sia superiore alla nostra religione, per carità, io non ho mai detto questo, anzi, per me l'Islam ha delle punte veramente eccessive contro tutti, contro tutti quelli che non appartengono alla religione islamica. Naturalmente io in tutti i racconti do sempre una speranza, una possibilità di riscatto. Parlo dell'Islam perché naturalmente ci sono dei racconti che riguardano ragazzi vissuti, nati nella religione islamica e quindi anche nel racconto di Petra, che forse se lo prende lo leggerà, ecco, la parte nell'Islam che può essere considerata positiva in quanto riflette un'impostazione dell'Antico Testamento. Ma non assolutamente, io non nego quello che è la struttura islamica, quello che è lo spirito di vendetta, lo spirito di superiorità della religione islamica sulle altre, vista dal punto di vista islamico. Io non sono certo un islamista, non appoggio assolutamente le tesi specialmente estremiste dell'Islam, come non appoggio nessuna tesi che sia estremista da parte di qualsiasi religione, di quella ebraica, di quella islamica e anche di quella cattolica, no? Ecco, io sono sempre per cercare una possibilità di convivenza pacifica tra le varie religioni, ma soprattutto tra le persone, non tra le religioni, tra le persone che nascono, credono e vivono secondo un certo credo politico. Ma io per carità non vorrei che fraintendesse che io reputi l'islam una religione superiore alla nostra, no? Assolutamente, guardi, io da cristiano cattolico sono fermamente convinto della bontà della nostra fede, della nostra religione, io opero come cattolico in tutto il mondo e come cattolico e credente. Ecco, assolutamente io non ho mai avuto idee di questo genere, no, no, via tranquillo. Sarebbe stato bello continuare, ma purtroppo i tempi sono quelli che sono, perché ci sono altre presentazioni, per cui un grazie ancora a tutti voi, auguriamo una buona serata e speriamo di rivederci ancora. Grazie e buonasera.